a tutti bella raga oggi siamo un buonissimo video e siamo qui sulla portatrona del re belli rilassati a raccontarvi una barzelletta allora questa è la barzelletta di debora allora c'è questa ragazza che gli puzza l'alito tantissimo e nessuno la invita mai fuori mai a cena fuori non la invita mai da nessuna parte neanche i suoi amici la invitano a casa perché c'ha questo alito che puzza tantissimo e quindi un giorno questa ragazza incontra un ragazzo del paese che gli chiede ma vuoi uscire a cena con me questa sera lei dice sì 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 subito perché nessuno le aveva mai invitata quindi arrivati a quel giorno mangiano primo secondo e arrivati al dolce il ragazzo gli chiede ma come ti chiami debora mai scorreggiato no ah ma ora sì questa ragazzi mi piace un sacco come barzelletta bravissimo che l'ha inventata dai ciao ragazzi mi raccomando lasciate un bel like ciao